ben ritrovati a tutti gli amici tifosi del pianeta basket canale novantasei di tele Firenze Viola Super Sport dal vostro Stefano Ballerini parimenti Paolo Caselli e anche Enrico Milano che mi segue mi coaudiaba da remoto allora vediamo cosa è successo nell'ultima settimana andando anche ad aggiornarvi l'Eurolega purtroppo nuova sconfitta dell'Armani Milano mentre questa sera gioca la eh squadra bolognese della delle V nere per cercate di tenere alto quanto possibile il blasone italiano anche in un in un anno di Eurolega pur con due squadre italiane Bologna staccata dalla vetta Milano addirittura ultima mai successo negli ultimi anni andiamo a vedere dunque quelli che sono i risultati del turno del primo turno di Eurolega allora eh Valencia partizani in campo esterno cento a novantasei basconia batte Olimpia Milano settantotto a sessantadue il successo di Monaco in trasferta sul campo del Lyon Villarban ottantaquattro settantacinque il successo di stretta misura di Barcellona a Berlino per ottantotto a ottantasei Anadolo Efes che batte l'Olimpia coste Pireo ottantadue a settantuno con questi incontri di questa sera cominciamo alle diciotto Stella Rossa Virtus Bologna appunto le V nere in trasfetta su un campo da sempre molto molto ostico Fenerbahce Real Madrid Zalgiris Kaunas Panathinaikos e poi Bayer Monaco Maccabi Tel Aviv allora vi posso dare una classifica che però ovviamente riaggiorneremo lunedì con Paolo Caselli Fenerbahce dieci giocate nove vinte una pezza questi sono i tre numeri Barcellona undici otto tre Monaco undici otto tre Real Madrid dieci sette tre Olimpia Cospireo undici sette quattro Zalgiris Kaunas dieci sei quattro Anadolo Efes undici sei cinque Basconi a ottavo per adesso posizione che garantirebbe ma il campionato dell'Eurolega è lunghissima un posto nei playoff sei cinque poi Maccabi al cinquanta per cento dieci cinque cinque Valencia undici cinque sei Virtus Bologna dieci quattro sei che se vincessero andrebbero ad undici giocate cinque vinte e sei perse e andrebbero a rimbalzare tra l'ottava e la nona posizione tra Basconi e Maccabi Panathinaikos dieci quattro sei stella rossa appunto dieci quattro sei che devono giocare questa sera sul loro campo amico contro Bologna Partizan Belgrado undici quattro sette Bayer dieci tre sette Alba Berlino undici tre otto come Lyon Villarban e come purtroppo l'Olimpia Milano tre squadre in ultima posizione Milano arriva da cinque sconfitte perse consecutivamente non era mai successo né le cinque sconfitte consecutive né tantomeno purtroppo l'ultima posizione in classifica andiamo a dare un'occhiata anche a quello che vuol dire l'ultimo turno messo dal panorama dell'NBA questa notte l'ultima partita è stata Detroit Pistons e Dallas Mavericks cento trentuno cento venticinque mentre nel turno della scorsa notte lunga la eh la rendicontazione Los Angeles Lakers Porta and Trail Brazos cento ventotto e cento nove come parlavamo questa mattina con Paolo Caselli Sacramento Kings e Indiana Pacer cento trentasette cento quattordici Denver Nuggets e Houston Rockets cento venti a cento Phoenix Suns e Chicago Bulls cento trentadue cento tredici Utah Jets Los Angeles Clippers cento venticinque cento dodici Minnesota Timberwolves e Memphis Grizzlies cento nove cento uno i Pelicans di New Orleans battono i Toronto Raptors cento ventisei cento otto Oklahoma City Thunder che battono i Sant'Antonio Spurs cento diciannove cento undici Boston Celtics di Paolo Caselli hanno la meglio sul Miami Heat cento trenta quattro a cento ventuno poi il successo dei Brooklyn Nets su Washington Wizards cento tredici cento sette i Bucks di Milwaukee vanno a vincere in campo esterno a New York sui Knicks cento nove cento tre Cleveland Cavaliers Philadelphia Seventy Sixster cento tredici a ottantacinque in fondo Atlanta Hawks che va a vincere sul parquet di Orlando Magic per cento venticinque a cento otto e risaliamo e torniamo e arriviamo nelle cose di casa nostra dove l'ultimo turno in serie a uno allora a Verona Varese batte Verona novantotto novantuno Scafati batte trevigiana di due punte sessantuno cinquantanove pesaro che regola sassari ottantuno settantacinque Vittus Bologna Brindisi novantotto sessantotto il classico trentarello a Treviso l'Olimpia in campionato va vincendo in terra trevigiana novantatré a ottanta tortona che regola di un sol punto Napoli basket settantaquattro settantatré Trieste che perde di un punto dopo un semplementare battuta in casa da Brescia per novantuno novanta decide il tempino finale dieci a nove Lombardo e poi Trento che va a vincere sulla Reiera a Venezia settantatré settantadue possiamo darvi la classifica aggiornata che è questa Vittus Bologna a sedici Olimpia Milano quattordici Tortone Varese dodici la coppia pesano Trento a dieci poi la coppia Venezia Brescia otto per entrambi il trenino di sassari basket Napoli e Brindisi a sei punti il trenone finale Scafati Reggiana Verona Trieste Treviso entrambe tutte con quattro punti e allora questo l'abbiamo messo da parte poi andiamo a vedere la uno femminile allora qui le due Toscane allora andiamo andiamo a vedere gli ultimi risultati allora ci siamo lasciati al sì c'è stato un turno di stop e se la rendi contazione giusto al 19 di novembre con campo basso basket crema sessantatré cinquantanove San Martino Brixia ottantuno sessantaquattro Faenza quarantotto Ragusa settantatré Lucca battuta in casa pur con gli onori delle armi dalla corrazzata Schio settantasei novantotto Sassari che ha battuto San Giovanni sessantadue sessantuno Valdarno sconfitta in casa a San Giovanni Valdarno dal Moncarieri sei sette sette cinque Bologna che ha regolato Venezia ottantacinque settantuno andiamo a vedere l'ultima classifica stampata della serie A1 Schio diciotto Bologna e Venezia sedici Sassari quattordici il duo San Giovanni campo basso dodici a dieci San Martino Ragusa e Moncalieri otto a quattro Faenza a due chiudono Lucca Brizia Valdarno e basket crema e anche la 1 l'abbiamo messa a posto la 2 femminile Girone Sud allora vediamo quello che è successo battipaglia è andata a vincere a Roma sulla Roma sulla Roma Nord sessantotto cinquantatré Savona ha regolato Vigarano settantasei sessantadue San Salvatore Selargi si è andato a vincere in terra ad Umbria a Umbertide cinquantanove cinquantasei Matelli che è andato a vincere ad Ancona cinquantatré quarantatré la pallacanestro femmine Firenze ha battuto Cagliari sessantuno a cinquanta e allora anche qui possiamo andare a rendervi edotti della classifica comanda il duo toscano Empoli e Firenze dodici patti Spezze e battipaglia un terzetto a dieci quattro squadre a otto San Salvatore Selargi dalla Sardegna Umbertide Savona e Matelica a sei Ancona Roma Nord a quattro Roseto e Vigarano Cagliari chiude a due punti andiamo poi a vedere i risultati dei dei campionati di ehm Serie B allora partiamo dalla prima fase della B femminile dove l'ottava giornata del campionato ha detto di la vittoria di Costone Siena sulla Florence quaranta tre a trentadue allora già che ci sono adesso in previsione del derby di domenica Laurenziana Firenze Florence la Florence ci fa pervenire sia la foto del nuovo allenatore signor Gianni Berti auguri la SD Florence basket femminile comunica che ha dovuto accettare le dimissioni di coach della prima squadra Paolo Romanelli che salute che ringrazio motivate da sopraggiunti imprevisti impegni lavorativi che lo costringeranno ad assentarsi da a Firenze per alcuni periodi la squadra di Sarevia è stata dunque affligata al nuovo coach Gianni Berti di cui sul pezzo del weekend di Firenze Viola Supersport c'è già la fotografia Florence ringrazia Paolo Romanelli mi unisco per il lavoro svolto fino ad oggi auguro a Gianni Berti un buon lavoro dico io a cominciare dal l'impegno dello straderby salvezza Laurenziana Florence chissà che col cambio della panchina la Florence riesca a mettere i primi due punti in classifica per cui questo è l'augurio che noi ovviamente gli facciamo poi dal comitato regionale andiamo a vedere i risultati della serie allora vado a prenderli qua il campionato nazionale maschile la serie B allora serie B eh maschile con il due gironi che ci interessano allora nel girone A Erons Montecatini Montecatini Galarate 87 72 Pavia LTC San Giorgio su Legnano 62 61 Nicosano Livorno Megna 85 72 Roero San Bernardo Borgo Manero 69 a 80 Piombino Solbat Monferrato 96 81 Varese 3G Electronics Legnano 75 87 Oleggio Libertas Trivorno 1947 62 69 Gemma Montecatini Terme battute in casa da Vigevano 61 84 questa la classifica del girone A Vigevano 18 Libertas Livorno 1947 e Unicosano Livorno due Livornesi a inseguire appagliate a quota 16 Solbat Piombino 12 Pavia LTC San Giorgio su Legnano e Omegna con anche l'altra Legnanese 3G Electronics 10 punti rinnovo la mia domanda fate una squadra sola fate la forte 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 probabilmente riuscireste a vincere il campionato per lo meno arrivare sicuramente in zona playoff Gemma Montecatini Terme Eros Montecatini stesso col stesso discorso eh con patatine otto punti per entrambe l'anno scorso pur con due squadre non siete riusciti ad arrivare in serie a due unitevi una squadra sola davvero molto forte sicuramente potrete vincere il campionato di Serie B e tornare da dove Montecatini deve stare per lo meno in un campionato targato a due per cominciare auguri insieme a loro Galarate tutte e tre otto punti a sei Borgo Manero e Monferrato a quattro Oleggio due Campus Varese Roero Langhe zero punti da qui andiamo all'altro girone che per la Serie B maschile è il girone C giocata la nona partita Rieti Materica ottantotto sessantuno Faenza Pallacanestro Firenze altra sconfitta Giliate in trasferta Faenza vince novantacinque ottantanove troppi gli stop nelle ultime giornate per Firenze che rallenta Fabriano Ozzano novantasei ottantaquattro Andrea Costa Imola duemilaventidue Iesi settantotto sessantadue Senigallia Fiorenzuola settantotto ottantatré Cesena Bacchi di Piacenza sessantanove settanta il Campetto Ancona Imola ottantasette ottantacinque stessa cosa di Castiglimola fate due squadre sicuramente potrete avere qualche chance di vincere il campionato Empoli che batte nel derby San Mignato sessantatré cinquantaquattro Rieti e Faenza in testa sedici a quattordici Fabriano si è rallentata Firenze con Becchi di Piacenza sono a dodici punti anche con Senigallia a dieci Fiorenzuola e Baschetti Iesi anche Campetto Ancona insieme a Pallacanestro Imola a otto Ozzano e Andrea Costa Imola duemilaventidue poi eh a quattro Saminiato due per Cesena due per il computer Empoli zero per Matelica allora questo è il nostro rendiconto di questa settimana per quanto riguarda il basket con la B maiuscola noi però andiamo a vedere anche quello che è l'ultimo campionato che a noi interessa andiamo nel regionale toscano andiamo in promozione maschile andiamo alla prima fase del girone di andiamo a vedere quello che è successo nel settimo turno della settimana scorsa bella cosa per l'Elba Pallacanestro Elba Dinamo Basch Rosignano settantasei sessanta per chi veda questa trasmissione o sul Facebook o sullo YouTube di Firenze Viola Supersport specialmente per quanto riguarda la dirigenza ragazze dell'Eba se ci mandate i tabellini la foto di un incontro tanto perché poi possiamo creare un articolo un pochino fatto in maniera migliore vi ringraziamo prima o poi con le dico l'Elbana Sport e verremo a trovarvi per una diretta interna Carrara Polisportiva Chimenti Livorno 63 53 Versilia Basket Cuspisa 36 48 Ghezzano Esco Piombino 69 63 Stagno Rosignano si gioca il 22 di dicembre alle 21 e 30 e poi Stonexport Livorno Volterra 63 68 in questa classifica c'è Stagno Capolista 12 Rosignano e Volterra 10 Carrara Legends 8 Stonexport Pallacanestro Elba Ghezzano e Nicola Chimenti 6 basket Dinamo Rosignano con Piombino e con il Cuspisa 4 chiude il Versilia Basket con due punti allora con gli auguri a Gianni Berti nuovo coach della Florence Firenze che deve vincere al suo esordio sulla panchina bianco viola rosso il derby di questo prossimo weekend eh noi chiudiamo qui la nostra emissione di questo venerdì di speciale eh basket Toscana sul canale novantasei di Tele Firenze Vero Super Sport grazie Enrico Milano grazie a Paolo Caselli lunedì con Paolo Caselli in sede di Rassegna Stampa una prima spolverata dei risultati e poi entreremo nel nesso nella prossima puntata di ogni venerdì alle ore diciotto e trenta grazie da Stefano Ballinini dalla regia del canale novantasei grazie Enrico Milano per l'aiuto vi lascio viva il basket o in bocca al lupo a tutte le squadre toscane e italiane di Eurolega Milano e Bologna Bologna gioca questa sera sul difficile parche infocato della Stella Rossa di Belgrado deve vincere il team delle V nere bolognesi è tutto la linea torna alla nostra programmazione del canale novantasei a lunedì grazie buon weekend viva il basket